Buonasera amici di Campania, tu qui ci troviamo in compagnia della signora? Ha degustato qualcosa, come ne è sembrata la festa in generale questa sera? Mi è piaciuta da poco ricordo Quindi le è piaciuta diciamo? Come è stata organizzata da parte degli stand e da tutti? Da parte degli stand e da tutti, come è stata organizzata? Mi è piaciuta da poco Ha degustato qualcosa? Sì, ancora niente, da poco ricordo Ok, facciamo un saluto agli amici di Campania Tube